E' morto colpito da un malore mentre era alla guida della sua automobile che prima di fermarsi ha colpito diversi mezzi in sosta. E' accaduto questa mattina in via Martiri di via Fani dove un uomo di 80 anni è deceduto mentre era alla guida della sua Fiat Punto. L'utilitario ha proseguito la corsa impattando 8 automobili che erano in sosta. Sul posto è giunta un'unità del 118 ma il medico non ha potuto far altro che incostatare il decesso dell'uomo. Al lavoro anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità che è stata dirottata in altre vie. Spavento tra i residenti della zona anche perché a quell'ora è una via frequentata soprattutto da numerosi studenti per la presenza di diverse scuole. La circolazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata anche al termine dei rilievi degli investigatori e del medico legale.